Massimo Laiolo, Consulente del Lavoro in Torino, quest'oggi abbiamo un corso sulla pianificazione degli elementi di costo utili alla prescrizione del budget del personale. Il budget del personale e il costo del lavoro è sicuramente uno degli elementi più importanti e critici, soprattutto in questi anni, dove le aziende rincorrono a quelle che sono le definizioni di questi elementi di costo. Il corso si struttura, quindi trasversale rispetto alle aziende partecipanti, si struttura analizzando quelli che sono gli elementi utili alla definizione anche con riferimento alle tipologie contrattuali utilizzabili, a eventuali elementi di gestione della flessibilità del lavoro e con riferimento all'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Quindi una panoramica su quelle che sono le caratteristiche, ovviamente alla luce delle novità introdotte da ultimo dalla Giobec dello scorso anno, proprio per consentire quindi l'inserimento corretto delle voci di costo in quello che è poi la predisposizione del budget del personale.